Allora siamo al termine della partita Vinta nettamente dall'HC Banca Paolare di Fondi Sulla Luciana Mosconi-Dorica-Ancona Uno scontro diretto importantissimo Abbiamo con noi uno dei più giovani Nella rosa dell'HC Fondi di quest'anno Daniele Muffini Il suo ruolo è pivot Ormai il pubblico sta imparando a conoscerlo Ti chiediamo un pochino Hai visto buona parte della partita dalla panchina Poi sei entrato, ne sei diventato protagonista Come hai visto questa partita di questa sera? Sicuramente è stata una partita bellissima All'inizio abbiamo un po' sofferto Andavamo punto a punto Però all'inizio già del secondo tempo Abbiamo cominciato a fare un buon parziale A nostro favore Io naturalmente ho giocato gli ultimi sette minuti Forse qualcosa in più Va bene Comunque naturalmente ci ho messo la passione Ci ho messo il cuore E ho trovato anche un gol Importante anche quello Mi hai bruciato in qualche modo l'altra domanda Che volevo farti Stai cominciando a trovare spazio in prima squadra Per un atleta giovanissimo come te Capitano dell'Under 18 tra l'altro Cosa significa questo? Beh sicuramente è un traguardo bellissimo Mi sento veramente onorato di far parte di questa squadra Perché comunque gioca in un campionato di serie A maggiore E all'età che ho Sono molto fortunato a trovarmi con degli atleti Come il capitano Stefano Di Manno Gianluca Stefano De Torre Che comunque hanno una certa esperienza Vorrei ringraziare il mister E tutta la squadra per avermi supportato E tutta la squadra per avermi supportato